Ciao a tutti, sono Darkmind e volevo commentare questo gioco abbastanza interessante trovato sul net. I comandi sono molto semplici e vediamo questa introduzione abbastanza simpatica. No, sicuramente è. È la guerra. Yes. No. Yes? Vabbè, comunque, vabbè, avete capito un po', se sapete un po' di inglese. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. la blada è stata nucleare vabbè insomma abbiamo capito pazzesco il benvenuto che ci danno entrando in uno scenario di guerra reale i am an enemy sono pazzeschi sono stupendi qua sono senza parole io incredibile incredibile ragazzi vi consiglio non so quanti colpi ho dato per ammazzarlo alla fine vabbè lo peccato i am also an enemy tentando un headshot gli fa un urletto un urletto un gemito di dolore intanto siamo a master sergeant shooter sergeant person un rank molto molto bello qua raccogliamo un bastone senza senso qua vi traduco un po' dai hey fox club niner io ci dice una cosa importante però non mi muore aumentando il dramma della storia come dice lui tu non puoi beccarmi a meno che il gioco non va da rallentatore per qualche motivo detto fatto il gioco va da rallentatore quindi lascio vedere ecco la cosa che mi sono scordato è che non so voi sarete accorti è il fatto che ogni volta che spara il nostro caro personaggio si sente boring e' un'ottore wow comunque ma è un master sergeant shooter sergeant important person I am also an enemy Boring Il gemico di dolore Sempre molto apprezzato Questa è la scena del paracadottista Che è questa molto carina Io sto paracadottista esce così da un momento all'altro Si metta a parlare E' la pupa che bello Incredibile Brody screen surreal Ragazzi Mello di cala Di modo molto Quindi vi consiglio di prenderlo Vivamente Poi abbiamo preso un blocco Di foglie a righe Non so Senza senso Sempre Questa è la scena che preferisco di più Che è l'incontro con il cattivo Ve lo traduco Ho una voce grave Con uno stupido accento Ho una venda sull'occhio E una barba E un completo Questo vuol dire che sono il capo dei cattivi Ho la bomba La testata nucleare Non ti do la testata nucleare E qua Colpo di scena finale Come al solito Gli USA dominano La scena mondiale E con questo vi saluto Grazie a tutti